Ciao e ben ritrovato in questo nuovo video, sono Mauro Barbacci, sono un fotografo naturalista e un uomo nella natura. Oggi voglio parlare di un argomento un po' insolito, sì, perché come visto dalla copertina ho queste due macchine, una a pellicola e una digitale. Spesso mi viene chiesto, eh Mauro, ma cosa posso acquistare per fare fotografia? E' meglio questo marchio piuttosto che l'altro. Ragazzi, ad oggi è come se siamo tornati alla pellicola. Non sto mettendo a confronto digitale e pellicola per la qualità d'immagine, ma entrate con me in questo modo di pensare. Ossia, quando si usavano queste macchine qua a pellicola e soprattutto queste manuali, cioè completamente manuali, con la messa a fuoco manuale, diaframma manuale, che accadeva? Che la vera differenza poteva essere la pellicola che si andava a montare e la lente, quindi la qualità delle lenti. Allora, sulla qualità delle lenti, in passato, come ad oggi, fondamentalmente erano molto equiparabili tra di loro. Magari qualche marchio aveva qualche misura più particolare rispetto alle altre, va bene. Il discorso della pellicola era una cosa prettamente personale, perché io, per esempio, in passato usavo sia le Fuji che le Kodak in diapositiva, perché mi piacevano quelle due tipologie di diapositive per fare determinati scatti, quindi a volte una, a volte l'altra. È come se oggi, dico un po' una castroneria, usavo un po' Nikon e un po' Canon per via dei diversi colori che restituiscono in fotografia. Però, fondamentalmente, è come se io cambiavo il sensore alla mia macchina fotografica, cambiando il rullino, oppure utilizzando, praticamente una volta dovevi finire il rullino, quindi io di queste ne ho, di X700 addirittura ne ho quattro, quindi ne tenevo una con il rullo e una con l'altro, ma non andiamo a complicar la vita del video. Andiamo a finire sul digitale, invece. Se andiamo a vedere, questi hanno tutte e due un 50 mm, questa un 50 mm reale, questa un 50 mm equivalente, perché è micro quattro terzi. Però il discorso qual è? Ad oggi le macchine fotografiche digitali hanno una qualità e delle tecnologie talmente elevate che è difficile anche dare un consiglio, ma soprattutto è difficile raggiungere i limiti della macchina. Non so se mi spiego. Ad oggi una macchina digitale, professionale, semiprofessionale, ha talmente tante tecnologie che è difficile mettere in difficoltà la macchina come essere umano, come fotografo. Quindi non mi farei troppi problemi. Ecco, andrei una volta, dicevo, quando mi venia chiesto ma che macchina fotografica posso comprare? Vai in un negozio, prendi in mano, una volta si parla principalmente dei Nikon e Canon, prendi in mano una Nikon, prendi in mano una Canon e senti quale te sta meglio in mano. Eh ma perché? Perché semplicemente la qualità della foto su quella fascia di prezzo poco cambia. Ragazzi, ora noi siamo in un'era dove macchine ultra stabilizzate, messe a fuoco ultra veloci e che te tengono l'occhio de continuo. Qualità delle lenti e dei sensori spaventose. Oramai sono tutte mirrorless, quindi anche sui pesi, se parliamo dei full frame, siamo là, stanno comunque tutti adeguandosi con parco ottiche molto leggera e molto performante, quindi non vedo sto grosso problema. Appunto equiparerei il digitale di oggi alla pellicola di un tempo, anche sotto il punto di vista economico. I prezzi, avete visto, si sono un po' alzati, ma soprattutto sono stati tolti le macchine entry level. Da un certo punto di vista dico anche giustamente, perché ad oggi ha poco senso che un neofita o una qualsiasi persona che voglia scattare semplicemente fotografie debba per forza comprare una macchina fotografica è assurdo. Stanno uscendo telefoni con fotocamere veramente da urlo che vanno a sostituire quelle che erano le entry level, perché se pensate bene acquistare un entry level con il 18,55 e tenerlo in un cassetto spendere quei 400-500 euro adesso non lo so manco quanto era il prezzo rapportato oggi sarebbe sicuramente salito però perché tenere una macchina da parte che diventa un impegno dopo scatto con una macchina fotografica schedina, computer, rilaborazione telefono senza tenere conto che il telefono ha preso anche il posto delle no, non è vero che ha preso il posto però è paragonabile un tempo c'era questa e c'era la aiutame, aiutame, aiutame aiutame la Polaroid la fotografia istantanea ad oggi lasciamo fare che le Polaroid ancora esistono e vanno alla grande perché sono delle macchine eccezionali però ad oggi sarebbe macchina digitale e fotografia istantanea col telefono che ha preso anche la parte dell'entry level quindi ad oggi la fotografia digitale professionale e amatoriale e voluta si è praticamente uniformata a quello che era in tempo ossia full frame prezzi più alti e medio formato come prima c'era full frame e medio formato la parte professionale o amatoriale di fascia alta perché quello che c'è adesso c'era una volta c'è il fotografo amatore c'è sempre stato cioè non è che con l'arrivo del digitale è nata la fotografia amatoriale no no ragazzi c'erano tantissimi fotografi amatori non mi piace amatoriali amatori già con la pellicola io ero uno di quelli ero quando ero un ragazzino quindi la fotografia semplicemente per passione c'è sempre stata non è che col digitale tutti i fotografi amatori c'è più un professionista no no ragazzi c'è è giusto così se uno c'è i soldi per comprasse un'attrezzatura fotografica gli ad agosto acquistasse un'attrezzatura fotografica scatta belle foto perché non lo deve fare voglio non affilare i discorsi fiscali ma sul discorso della fotografia per passione amatoriale usiamo sta parola anche se a me piace è sempre esistita quindi non mi farei grossi problemi su sta cosa qui ecco il digitale praticamente ad oggi è come era la pellicola prima né più né meno proprio a livello anche commerciale c'era tutta la pubblicità da adesso però fondamentalmente parliamoci chiaro ragazzi qualsiasi macchina prendiamo mano se la sappiamo usare va come in treno ad oggi perché se io prendo Sony A9 Mark III A1 Canon R5 R3 Nikon Z8 Z9 Le Leica le Panasonic le Pentax ragazzi quella che prendo prendo il problema non è la macchina fotografica il problema sono solo io sono io che devo sapere quello che faccio con questi strumenti ma sta cosa è da un pezzo io ho la D3 qui dietro che ancora è una signora macchina fotografica tant'è vero che se ne prende il pallino basta e compra un obiettivo qualsiasi che adesso si trovano anche sul mercato dell'usato a ottimi prezzi c'è il monto e si continua a fare foto però è in catafalco e sta lì pesante e sta lì non è che bisogna guardare i 12 megapixel sono pochi ma di che che pochi se uno sa fare foto basta e ne avanzano 12 megapixel in tutto questo però ti voglio dire una cosa non c'entra niente però è molto interessante se hai Disney Plus merita veramente di guardarlo Photographer il documentario del National Geographic uscito in questi giorni è una cosa micidiale ragazzi sono fotografi che io seguo da sempre e bom aprono gli occhi aprono la mente guardatelo perché ne vale veramente la pena se non ci avete l'abbonamento a Disney Plus anche il fate per mese solo su 6 episodi li vedete tutti 6 episodi da un'ora ante una settimana li vedete poi disdite l'abbonamento alla fine però veramente Photographer del National Geographic guardatelo guarda senza considerare che dentro Disney Plus c'è National Geographic è di proprietà di Disney Plus quindi c'è tutti gli altri documentari con altri fotografi una cosa che mi è venuta a mente e te dovevo dire perché ne vale veramente la pena cioè non fa vedere come fanno la foto fa vedere qual è la vita di questi fotografi ma non la vita odierna la vita di quando erano bambini quindi ragazzi da quando erano bambini ragazzi capite perché Paul Nicklin è sull'Olimpo dei fotografi al mondo c'è poco da girare intorno noi altri portiamo sul palmo della mano Tizio e Caio perché c'ha 150 200 mila follower su Instagram o 100 mila iscritti su YouTube ma non è così non funziona così ci sono tantissimi fotografi che non si conoscono che non hanno nemmeno i social e fanno secchia tutti quanti no YouTube ce ne sarebbero da dire cose su questi argomenti ragazzi che se vi interessano spiegate nei commenti magari facciamo posso fare anche una rubrica dove parlo di questi fotografi che io seguo veramente da quando so ragazzino e e ho preso tanto da loro ma non da internet dalle riviste quindi quale macchina scegliere oggi quella che vi piace di più quella che vi sta più simpatico come marchio perché tanto so tutto uguali senza tenere conto che ragazzi in mercato dell'usato ci trovate delle occasioni con delle macchine pazzesche ma pazzesche quindi adesso trovano le 1DX della Canon a 1000 euro però non vi voglio annoia ragazzi grazie di essere stati qui con me ci rivediamo presto su questi schermi in questi ultimi giorni se avete visto l'ultimo video sapete perché sono un po' meno presente ma da martedì comincio a tornare in mezzo alla natura in maniera più assidua sti giorni e so giorni in poco scipo dopo c'è Pasqua quindi però non vuol dire che mi fermo da martedì oggi ecco sono le 10 e mezzo del sabato sera che sto registrando questo video molto probabilmente andrà non da domenica a pomeriggio ma proprio perché ho un sacco di cose da fama le vedrete più avanti anche perché stanno arrivando delle cose interessanti quindi grazie 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 trovate tutti i link che servono in descrizione iscrivetevi al canale se vi ha fatto piacere vedere questo video e ci vediamo presto in mezzo ai monti e ai fiumi soprattutto ai fiumi grazie 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 grazie